Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Dio mio grazie per avermi slegato ste maledettissime braccia che mi stava venendo un crampo all'esistenza! Dai ma che cazzo è sto Mino Michelin? Ma non potete farmi sta cosa produttori! Sarà un caso che sono diventato nero nella forma velocità e i neri sono sempre primi alle gare di atletica? Eh non ci avevate mai pensato! Boh cioè io sono un altro pokemon non c'entro nulla con Cherrimp però boh ma mi hanno messo qua. Gran casa Ikea! Poppanti! Io sono il futuro dell'edilizia! Forse dovrei effettivamente smetterla di continuare a viaggiare tra una dimensione e l'altra e di perdere le gambe e di avere nuove ali e in generale di viaggiare attraverso le dimensioni. Ehi sì! Proprio tu! Lo sai che cosa sta per succedere adesso vero? 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 1... Gian! Ma... Ah! Cos'è quel corno antiestetico che mi avete messo in testa? Ho quella arreprensibile voglia di figa! Serena dove sei? Vere Artù Butto, come lì non do state? Sì, sì, sono diventato un cane Non ha senso Non lo so che è, devo salire sull'arca di Noè Vogliamo metterci un altro animale, per caso Boh, Ottimus Prime I Transformers Io non mi capisco da solo Vabbè Mani, mani che volano Mani che volano, ok Mani che volano Mani che volano Mani che volano Oitia, senti, non è che mi fai una cortesia Perché devo praticamente fare un video Il video presente è quello, no? Cosa pensano, un po' con tipo questi video qua Però volevo farlo con le forme alternative Siccome c'era la Shikra Ninja, volevo farti fare tipo una comparsa In cui tu facevi lo sketch In cui urlavi tipo, Serena, dov'è Serena? O puttanate del genere Tipo una roba Cinque o sei secondi così In cui tipo Ti cali nel tuo personaggio Cerchi Serena Così nulla Se puoi sarebbe figo Grazie a tutti